Penso che quest'anno è un onore per la città di Genova avere due squadre che hanno espresso un buon calcio in merito ai loro due allenatori e ai giocatori, però penso che quest'anno sia i genovani che i sandoriani sono divertiti perché i risultati sono arrivati e allo stadio c'è sempre stato un bellissimo entusiasmo. Visto che la Samp è a caccia di un nuovo allenatore non è che puoi entrare in corsa? No, io come dico sempre da un po' di tempo ho un percorso da fare ed è quello di migliorare, di riuscire a raggiungere piano piano gli obiettivi che mi sono prefissati io e il mio staff. Potresti farlo in Russia visto che c'è l'interessamento di parte di qualche squadra? No, non lo so, ho delle robe da decidere e non voglio sbagliare, ho capito in questo anno. Tante volte lavorare per andare a lavorare non vale la pena, bisogna trovare una piazza che ti lascia lavorare e che ti fa lavorare tranquillamente, penso che questa è la cosa più importante. L'ultima considerazione su Ancelotti, ti senti di escludere che possa essere sulla macchina del Milan il prossimo anno? La storia dice che quando si muove a Gagliani qualcosa di buono, fa sempre, però conoscendo Carlo mi sembra un po' difficile, però ripeto, io penso che quest'anno la famiglia Berlusconi ritornerà a fare un mercato per lottare ai vertici dei campionati italiani. Però servono parecchi investimenti secondo te? Penso di sì, penso di sì perché, ripeto, per vincere i campionati ci vuole una società solida, ci vogliono i giocatori forti, perché ho visto poche volte nella mia vita che con il collettivo puoi raggiungere gli obiettivi, ma per vincere ci vogliono soprattutto i giocatori forti. Grazie.